Con questo video vogliamo spiegare la compilazione del legato F della dichiarazione del servizio continuativo per i docenti nella mobilità volontaria dell'anno scolastico 2020-2021. Si compila scrivendo il proprio nome e cognome, dichiarando sotto la propria responsabilità di prestare servizio nel corrente anno scolastico, cioè 2019-2020, presso una unità scolastica con l'addizione in chiaro della scuola in cui si presta servizio e il comune di attuale titolarità. E dopodiché si va a compilare tutti gli anni della continuità presso l'unità scolastica di titolarità. Possono essere anche più di dieci anni, nel caso in cui si aggiungono delle righe quanto se ne vogliono per indicare il numero effettivo degli anni di continuità del servizio presso sempre la stessa scuola di titolarità. Si deve sapere che i primi cinque anni valgono due punti per ogni anno scolastico, oltre i cinque anni valgono tre punti per ogni anno scolastico. L'allegato F lo compilano solo coloro che hanno almeno tre anni di continuità di servizio presso la scuola di titolarità, escluso l'anno in corso. Possono presentare anche l'allegato F coloro che hanno negli ultimi anni subito un trasferimento d'ufficio a domanda condizionata e hanno richiesto sempre per ogni anno successivo a quello di trasferimento d'ufficio il rientro nella scuola di precedente titolarità nell'ottenio possono presentare la domanda di continuità del servizio perché vale anche in quel caso. La tabella sottostante, questa tabella che vedete qui indicata, non va compilata nella domanda di mobilità volontaria perché va compilata solo per la mobilità d'ufficio o per la compilazione delle graditorie interne di istituto. Dunque, per la domanda volontaria, quella che per intenderci scade il 21 aprile, questa tabella non va compilata. Invece va compilata quest'altra tabella perché qui si indicano gli anni per cui è richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità per i docenti che nell'ultimo ottenio sono stati trasferiti d'ufficio da una scuola di precedente titolarità o a domanda condizionata. In questo caso si compila in questo spazio la scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio, il comune in cui era ubicata dalle scuole e l'anno in cui si è stati trasferiti d'ufficio. Dopodiché, in questi anni scolastici, si inserisce l'anno scolastico in cui si è fatta richiesta per il rientro. E poi, vedete queste note C, la nota C dice di riportare il codice della scuola in caso in cui sia diversa da quella attuale. In questo caso si scrive l'anno di domanda del rientro e il codice meccanografico in caso non sia lo stesso della scuola attuale. Una volta terminato questo allegato, lo si può inserire in gestione allegati delle istanze. Una volta entrate nelle istanze online, andando ad altri servizi, entrando in quest'area, andiamo a ricercare la gestione degli allegati. La troverete qua in basso, gestione allegati. Andate al servizio della gestione allegati, entrerete in questa parte dove farete avanti. Una volta fatto avanti, andrete sul termine accedi, cliccherete su accedi e andrete a finire in una pagina dove ci saranno i dati anagrafici. Dalla pagina dati anagrafici fate ancora avanti e finirete in quest'area qui dove potete inserire l'elenco degli allegati. Inserite la tipologia di allegato che volete allegare, per esempio l'allegato F-Mobilità-2020-2021 e una volta inserita qui, scegliete il file che avete salvato nel vostro computer, fate inserisci e col codice personale salverete in quest'area qui il tipo di allegato, l'allegato F, che poi andrete ad associare alla domanda di mobilità. Spero che questo video sia utile ai nostri lettori. Vi invitiamo a seguire il nostro sito www.technicalascuola.it, la nostra pagina YouTube dove faremo altri video sulla mobilità docenti e anche sulla mobilità ATA. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.